buongiorno consiglieri seduta di buongiorno buongiorno seduta di consiglio della quinta circoscrizione del tredici maggio del mila ventuno secondo appello proseguiamo con appunto l'appello Teresi presente Aiello assente Altadonna assente Cavaliere assente Di Gesù assente Figuccia assente Losardo presente Lucido assente Palazzo assente e stabile assente otto assenti e due presenti otto assenti due presenti non c'è il numero legale la seduta è rinviata domani in seduta di prosecuzione grazie a tutti buona giornata buona giornata a tutti buon procedimento